Voler far senso è di contatto, è da una vita che ci frequentiamo, perciò è normale se adesso te lo metto in mano. Cos'è il successo? Sei cambiata, non è più la stessa faccia. Ti vedo in fammi dire, vorrei sapere cosa c'è. Cos'è il successo? Sei cambiata, non ti pare impressionare. La patata, la patata, si rilassa, credi me, c'è qualcosa di grande tra di noi che non potrai cambiare mai, nemmeno se lo vuoi. Probabilmente mi ho guardato e te tu vuoi, non potrai cambiare mai, nemmeno se lo vuoi. Dai amore, vieni più vicino. No, mi fai paura. Allora dai, è tutta suggestione. Non ci starai mai. Piano, fai piano, no, 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 no. Cos'è il successo? Sei caduta, sei caduta sul mio cazzo e ora provi a risalire, ma è una fatica che non vuoi. Cos'è il successo? Sei riuscita, sei riuscita un po' giaccata, ma ricorda il mio bambino vuol giocare ancora, sai? C'è qualcosa di grande tra di noi che non potrai cambiare mai, nemmeno se lo vuoi. Probabilmente mi senti un grande che ti vuoi, non potrai cambiare mai, nemmeno se lo vuoi. Adesso cosa fai? Che cosa inventerai? Non toglierti dai guai, dove andrai? Adesso cosa fai? Ma dove te ne vai? Con la testa scendi giù. Prima ti lamentavi tanto, però con la bocca vedo che cosa vuoi fare. Ti piace? Ti piace?